Il giorno della festa della donna si è svolto a Palazzo Lascars il convegno Ada e le altre legami femminili tra educazione e valore della differenza che ha approfondito alcuni argomenti della vita di Ada Prospero Gobetti Marchesini l'educazione, la presa di coscienza della femminilità e il riconoscimento del valore della differenza Il convegno organizzato dalla consulta femminile regionale fa parte di un vasto programma di iniziative intitolato Giornate per Ada Prospero Gobetti Marchesini che si svolgono a Torino fino al 23 marzo La consulta femminile regionale del Piemonte per la giornata della donna vuole fare memoria e ricordo di Ada Prospero Gobetti che troppo spesso è stata alla luce del marito mentre ha avuto un ruolo molto importante nella storia, nella lotta partigiana e anche nell'emancipazione femminile quindi l'8 marzo in consiglio regionale ricorda Ada Gobetti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!